Il 23enne Manuel Cavanna, che il 19 aprile morì mentre lavorava in un'azienda di Montepulciano, fu colpito al torace dal cedimento di un profilato di ferro sul quale insieme a due colleghi faceva forza per sbloccare un auto articolato, un rimorchio, in un'azienda che produce strutture in metallo e box per cavalli. Lo afferma il procuratore di Siena, Andrea Boni, dando notizia che è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei due indagati che lavoravano con lui e la cui posizione era nota. Stavolta il procuratore Boni sottolinea che si tratta di un infortunio mortale sul lavoro e che all'esito delle indagini, secondo l'ipotesi accusatoria, la morte appare doversi ricollegare all'uso del profilato in ferro utilizzato per sbloccare l'auto articolato su cui gli indagati e la persona offesa stavano lavorando. A seguito della forza esercitata sul pezzo, lo stesso si è piegato improvvisamente colpendo al torace Cavanna e causandone la morte immediata. Sempre il procuratore Boni specifica che la ricostruzione è stata resa possibile anche in conseguenza del comportamento collaborativo e delle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di interrogatorio. Dichiarazioni che sono apparse collimanti con la ricostruzione dell'evento fatta dal servizio di prevenzione e infortuni sul lavoro. Il 23enne Manuel Cavanna, che era di Cortona, lavorava per un'azienda esterna a quella in cui avvenne l'incidente.